Il terrore che sarebbe durato per 28 anni, ma forse di più, ebbe inizio, per quel che mi ha dato sapere e narrare, con una barchetta di carta di giornale che scendeva lungo marciapiede in un rivolo gonfio di pioggia. E il mio sadico piacere ebbe invece inizio quando Hit uscì dalla fogna e divorò quell'odioso bambinetto che diceva La mia barchetta! In effetti l'horror ci fa paura o ci attrae? Questo film in particolare ci lascia addosso angoscia o soddisfazione? In parole povere, fa paura o fa ridere? E perché? Partiamo e vediamo insieme gli elementi horror che caratterizzano questa opera di Stephen King. Libro, primo film e secondo film. Il clown è una figura inquietante, grosso, adulto, ma vestito in modo buffo e pitturato di bianco e rosso sul viso. Un sorriso malvagio su un volto da clown è quanto di più classico ci possa essere, parlando del 2017 ovviamente. Vale la pena ricordare quanto successe nel settembre del 2016 quando in alcune città nel sud della Carolina vennero avvistate delle persone travestite da clown che si aggiravano vicino ai boschi o comparivano nei giardini cercando di addescare i bambini. Si pensò ad una trovata pubblicitaria ma tutti smentirono la cosa. Lo stesso King disse Se vedessi un clown sotto un ponte isolato oppure mentre mi osserva da un tombino, con o senza palloncini, avrei paura anche io. E tornando proprio sul tema clown aggiunse Per dare un volto al mostro che si mostra ai bambini in It, ho scelto Pennywise il clown perché ai ragazzini piacciono i clown ma ne hanno anche paura. Con le loro facce dipinte di bianco e le labbra rosse sono così diversi e grotteschi se messi a confronto con le persone normali. Se portate un bambino al circo e gli fate vedere un clown è più facile che si metta a urlare che a ridere. Oltre a questo, il clown cattivo racchiude anche la paura del pedofilo sadico e addescatore, simile ad un orco che mangia bambini. La stessa figura di Pennywise, il clown protagonista di It, pare sia stata ispirata da John Wayne Gacy in arte Pogo il Clown. Serial killer condannato a morte nel 1994 per avere rapito, torturato, sodomizzato ed ucciso almeno 33 persone. Molte di queste erano bambini ed adolescenti che John addescava durante le feste dove era vestito da clown. Non so quanti di voi soffrano di claustrofobia, io dico che essere in una serie di corridoi con percorsi obbligati è già una cosa spaventosa di per sé. Ma essere anche nel sottosuolo in mezzo a dei liquami maleodoranti lo è ancora di più. Non per niente molti giochi del genere survival horror si ambientano in dei corridoi, ma i livelli più angoscianti sono proprio quelli dentro le fogne. Le cittadine hanno queste terribili ed inquietanti caratteristiche. Sembrano dei piccoli paradisi ma possono nascondere dei grandi inferni. Sono abbastanza grandi per avere posti dove nascondersi, ma troppo piccole per avere un posto dove fuggire. Tutti sanno tutto di tutti, ma solo quando ne parlano in privato. È difficile ambientare un horror psicologico che coinvolge un'intera popolazione in un paesaggio naturale incontaminato e disabitato, oppure in una grande metropoli. In una grande città, infatti, anche in presenza di una situazione distopica, si creerebbero subito delle microzone al cui interno si formerebbero delle sacche dell'esistenza. Tutti i piccoli protagonisti della prima parte di It sono bambini abbandonati. I genitori o sono assenti, o sono violenti, o sono fuori come un balcone. Il terrore degli adolescenti. Trovarsi soli di fronte alla più crudele ed impunita violenza. Ovviamente non c'è soddisfazione nemmeno per il bullo, a sua volta vittima e maltrattato dai genitori, e destinato ad una brutta fine. Tutta la nostra vita è passata inseguendo un'illusione. Quella di trovare un punto di arrivo, una situazione di stabilità. Ma questa non arriva mai, se non per brevi momenti. La vita è un viaggio continuo. Nessuno di noi è destinato a potersi fermare. La morte delle persone che abbiamo intorno ce lo ricorda continuamente. Negare la nostra natura non ci permette di sconfiggere le nostre paure, ma serve solo a nasconderle anche a noi stessi. I protagonisti di It si illudono soltanto per molti anni di avere sconfitto l'origine delle loro paure. Ora che sono cresciuti, ora che sono diventati forti e si sono realizzati nella società, anche da un punto di vista economico. Ma improvvisamente l'orrore risorge dal loro passato e, proprio come la morte, arriva crudele, irrefrenabile e senza preavviso. Arriva sotto forma di lui, It, il mostro che assume la forma delle nostre paure. E perché allora quest'opera non fa paura a molti che anzi la trovano divertente? Perché fa dannatamente bene il suo dovere. Esorcizia il male, allontanandolo da noi. E infine sconfiggendolo, come in ogni buona fiaba che si rispetti. In fondo It è solo un mostriciattolo come tanti, benché più potente. Il vero male è dentro gli abitanti di Derry. Si nasconde nella loro indifferenza e nella loro ipocrisia. Sono loro a creare It, non è quest'ultimo che controlla loro. E con questo finisce il mio video. Ciao e alla prossima. Ciao e alla prossima.